Ad oggi è stato presentato solamente il candidato della Lega che mi risulta che oggi non è stato condiviso da tutto quanto il centro-destra e ha spiazzato un pochettino tutta la piazza perché credo che questa imposizione non sia stata gradita alla stragrande maggioranza dei politici montesilvanesi. I tempi non sono ancora maturi probabilmente per la definizione di altre candidature, a breve lo saranno perché le liste vanno chiuse entro una ventina di giorni credo che Montesilvano possa rappresentare e debba rappresentare una presenza nell'area moderata di centro-destra e sicuramente ci saranno altre candidature. L'importante è che al di là di quelli che sono i facili trionfalismi che possono movimentare ed emozionare sul momento si sappia fare quella programmazione in grado di raggiungere gli obiettivi perché queste sono le richieste che ci arrivano dalla cittadinanza. L'obiettivo è comunque secondario al fatto di concludere nel migliore dei modi questa consigliatura dando tutte quelle risposte alle richieste che i cittadini ci hanno fatto in questi anni. Moltissime sono arrivate, altre sono in dirittura di arrivo e sono convinto che comunque anche nella prossima programmazione ci potranno essere grandissime soddisfazioni.